Buongiorno, oggi parleremo di Abram Maslow, che dice quello che un uomo può essere deve anche esserlo. Maslow nacque nel 1908 e morì nel 1970. Ora, a memoria d'uomo, noi ci siamo sempre interrogati sul perché della nostra esistenza e sullo scopo della nostra vita. Alla base di queste domande c'è la necessità di identificare ciò che ci soddisfa davvero e c'è anche una grande confusione su come trovare questo qualcosa. La psicanalisi sosteneva che l'appagamento delle pulsioni biologiche innate porta alla soddisfazione, mentre i comportamentisti evidenziavano l'importanza di rispondere alle necessità fisiologiche come cibo, sonno e sesso. Ma tra l'inizio e la metà del XX secolo, il nuovo pensiero psicoterapeutico riteneva che la strada per l'appagamento interiore fosse molto più complessa. Uno dei principali promotori di questo nuovo approccio-problema era lo psicoterapeuta Abram Maslow, considerato uno dei fondatori del movimento umanistico in psicologia. Maslow analizzava l'esperienza umana osservando le cose che sono più importanti per noi, vale a dire l'amore, la speranza, la fede, la spiritualità, l'individualità e l'esistenza. Uno degli aspetti cruciali delle sue teorie era che un individuo dovesse scoprire il vero scopo della vita e poi dovesse perseguirlo se voleva raggiungere lo stato più evoluto di coscienza e realizzare al massimo il proprio potenziale. Uno stato finale dell'essere che Maslow chiama autorealizzazione. Maslow ha creato un disegno molto strutturato per spiegare il cammino della motivazione umana, definendo i passi che gli uomini devono compiere procedendo verso l'autorealizzazione. La sua famosa gerarchia dei bisogni, raffigurata spesso come una piramide, posiziona i bisogni primari alla base e a salire verso il vertice ciascuno degli altri requisiti essenziali per una vita realizzata. La gerarchia di Maslow è suddivisa in due sezioni distinte. All'inizio ci sono i quattro stadi che costituiscono le motivazioni carenziali, che devono essere tutte soddisfatte prima che una persona possa tendere ad una maggiore soddisfazione, attraverso le motivazioni di accrescimento. I bisogni di carenza sono semplici e primari, e comprendono le necessità fisiologiche, il mangiare, bere, dormire, e il bisogno di sicurezza, quindi sentirsi al sicuro e fuori pericolo. Il bisogno di amare e di appartenenza, cioè il bisogno di vicinanza con gli altri, e l'accettazione da parte degli altri. Poi le esigenze di autostima, vale a dire il bisogno di successo e di apprezzamento nella vita. A livello superiore, le motivazioni di accrescimento sono cognitive, ovvero il bisogno di conoscere e di capire, esigenze estetiche, vale a dire il desiderio di un ordine e di una bellezza, e infine ci sono due esigenze che definiscono lo scopo nella vita e portano ad un intenso appagamento spirituale e psicologico, vale a dire l'autorealizzazione e l'autotrascendenza. L'autorealizzazione è il desiderio di esprimere appieno il proprio potenziale. L'autotrascendenza è il bisogno di andare oltre il sé, per entrare in contatto con qualcosa di superiore, per esempio Dio, oppure il bisogno di aiutare gli altri a realizzare il loro potenziale. Inoltre Maslow postula l'esistenza, per ciascuno di noi, di uno scopo individuale fatto su misura. La strada dell'appagamento passa per l'identificazione e il perseguimento di questo scopo. Se qualcuno nella vita non fa ciò per cui è particolarmente tagliato, per quanto tutti gli altri bisogni siano stati appagati, sarà esternamente inquieto e insoddisfatto. Ciascuno di noi deve scoprire il proprio potenziale e deve cercare quelle esperienze che gli permettono di realizzarlo. Quello che un uomo può essere deve anche esserlo. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure consulenze telefoniche. Per cui se volete richiedervi una consulenza dovete contattarmi su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza e specificando il vostro nome, cognome e i vostri orari preferiti. Potete visitare anche il mio canale YouTube dove troverete oltre 400 video suddivisi nelle varie playlist. Mi trovate anche su Facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo Psicoterapeuti dell'Anima e ho aperto una pagina che si chiama La Mia Psicologia. Inoltre vi informo che ho pubblicato 4 libri che si possono trovare soltanto su Amazon sia in versione cartacea che in versione ebook. In bocca al lupo!